Che bello! Ma è bellissima questa skin Stiamo scherzando? Questo ti viene proprio a mangiare vivo Lo compriamo o non lo compriamo? Eh bastardi Con i soldi degli altri tutti si eh Vediamo un pochino le skin qua Che merda Le skin della season sono orribili Cioè queste sono Le skin della season sono queste arancioni Ragazzi le skin sono veramente Orribili, potevano cimentarsi In qualcosa di più personalizzabile Cioè non è cattiveria Ora però veramente le skin Potevano mettere sulle ar Perché tanto alla fine vediamo quelle no? Mi sarei aspettato qualcosa in più sinceramente Non lo so se non me potevamo fare qualcosa in più eh Così ti hanno una leggenda? La compri Con le monete in game Il battle pass non è niente di che Splittatevi pure Ho bello estermi Non posso notare quando usi l'abilità E non so se è un bug No mi si era buggato C'ho qua dentro C'ho qua dentro E' entrato sotto E' uscito fuori Va bene Ho il minino 2 per Da questa distanza Lo sta restando Lo sta restando Oh che cazzo Questa è un airdrop non del gioco eh Di qualcuno Possiamo andare raga Ti va? Andiamo Metto il jumpad Eccoli eccoli qua 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 Direzione giusta Di qua? Sì sì Ah li vedo li vedo sono là davanti Sì sì C'è due team eh Forse pure tre Destra Fatti uno Uno l'ho finito subito Prendo la Ragazzi mi prendo la carabbiata Copritemi un secondo Metto il jumpad Andiamo Arriva un altro regà Serve la mano Qua sotto No Uno riesce a restare Zaf copri sopra Ascudo viola eh Morto Buono regà Fichissimo il push così Comunque Qua Prello Metto il jumpad Metto il jumpad Andiamo che stiamo Sui detti Sì Armadura viola Dentro Sì Ok vai regà Sparando qua davanti a est Guarda che volo No 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 ho messo un auto jumpad sto Fuggendo Dietro dietro anche Sargino a mai di me Vorrà scappare Dove? Dove sono? Dove sono? Uno qua da me qua dentro casa Mi sta accesando Andiamo 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 Eccolo Prendi il jump ad e vado sopra casa Bella Minchia ho messo il jump ad e sono tornato indietro alla velocità della luce Zaff Che roba sgrava che è sto personaggio Ma quanti ne hai da droppare? Ma ne droppa Ma porco due ce l'ho dietro C'è un altro team dietro di me Ma come spara sto coso Chiudemi la porta con la destra Arriva uno 124 one shot Devo ricaricare Prega una mano devo ricaricare È one shot è one shot non abbiate paura C'è un altro team eh C'è un altro team curiamoci al volo Seguitemi a me siete pronti? Ok Jump ad via Jump ad via Bella Prendiamo le ground ora Merda 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 C'è lui Mi cura Uno sta vicino a noi Uno sta vicino a noi Soltato One shot Bella Mi cura io Sarà Sbagliare Sì Sì Lo andiamo Falto bisogna mano c'è un attimo gioco stiamo procurando io arrivo 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 passi c'era uno ragazzi bisogna mano niente qua sotto ho sbagliato tutti i volpi faccio piegare è l'ultimo mi sa braissimo quanti cazzo di danni ho fatto oh ti faccio vedere che ho imparato come droppare veloce ehi altri oh visto ti ha detto plus ultra ha detto davvero plus ultra ah tra un team sta droppando qua andiamola esatto siamo soli ah no ma va bene va bene hanno beidato mozambica finita sono da solo qua io arriviamo da te ora ha uno di vita sta andando giù sta andando giù corri dai oh merda facciamo ok non esattamente quello che aspettavo uno con come sono spariti scusate non lo so prendigli l'arma io non ho niente qua c'è un avoc rifle se lo vuoi regà io andrei a lutare qua perché non ho veramente niente mozambica e avoc con venticolpi ma che io dico io sono inveni una persona riguardo solo se hanno aperto qua sotto qua sotto non hanno aperto le casse quindi sono a idro eh sai cosi io butto il jump ad fanculo armatura blu da dietro da dietro ah a te ok a me lo sentivo ma vado via vado via arrivo aspai sono nascosto le lascio pusciare vado a prendere la roba io giocato uno rocati due ma l'ultima qua vicina ok è morto tutti meno male raga allora guarda come lui vola fai prima te è sicuro ma sicura li di prima te quello sprint che hai col palloncino tanto vado i spari sono là no so più a sinistra sono dentro sono dentro allora arrivo da te metto un jump adegli saltiamo dentro lo tengo per scappare no vai aggressivo aggressivi sono là lo piazzo eh sono a tre secondi da te vado dentro io con la ulti per primo fammi passare a Tommy vai dove è andato uno è qua fuori come corre fuori uno sempre dentro casa sempre dentro casa fuori due hai anche l'altro qua l'altro è sempre lì sempre lì morti tutti bella oh c'è un'altra gente di fronte 310 fronte a me mi sta mi stanno posicendo non posso sparare si è buggato il gioco oh regà si è buggatissimo il mio personaggio però ti voglio dire l'arma leva l'arma e rimettila e l'ho fatto due volte manca uno è un cerchino lontanissima arriva da te metto il jump ad vai 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 io sono croccato non ha più armatura Joe sto imparando a usarlo piano piano comunque non potevo fare niente si era buggato raga ma non potevi proprio cambiare arma potevo fare niente mi faceva mi faceva l'animazione della sua quando fa come si dice quando si tira praticamente la siringa in continuazione se la staccava in continuazione vedo gente qua 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 arrivo jump ad vuoi mettere il jump ad sono dietro di loro sulla loro testa cioè io prendo il palloncino io ho preso il jump ad dove sono? ah lo vedo vingameli meno 70 ah là ok vado sull'edificio meno 100 meno 100 robottega puscio questo puscio questo che cazzo c'era una lifeline andata la lifeline l'ultimo è là dentro raga l'ultimo è là dentro sono due croccati vai 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 no questo è un altro ancora hai tornato là ma quanti sono? tanto noi chiudiamo c'è altra gente eh sì sì è un altro team qua è 30 da mercato quasi è al 30 anche lui due croccati manca l'ultimo là dietro l'ultimo là dietro mi sto curando è l'hunter gli ho tolto 850 qua da me eccolo grazie 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 mancano due team rag siamo stati un po' veloci ah sono top ah uno lo vedo top sono top sono top sono top dove venga qua da me stanno sparando a voi o spavano fanno tre di loro sono tutti no tutti top entrambi i team no vabbè mi unisco al fight stiamo eh è rimasto vabbè comunque spara con una mano sola col pompa fa troppo ridere guardalo ma che figo è con una mano sola